Siracusa, Kermes Pugilistica, un'altra medaglia in Coppa Italia per il gruppo sportivo Fiamme Oro. Nella Coppa Italia, Kermes Pugilistica tenutasi a Roseto degli Abruzzi sabato e domenica scorsa, i piccoli atleti Leonardo Romano e Alessandro Piazzese, entrambi di otto anni, allenati dal responsabile della palestra delle Fiamme Oro di Siracusa, Diego Caldarella, hanno conquistato la medaglia d'argento nella categoria Cangurini. Al vice-sorintendente della Polizia di Stato, Diego Caldarella e i suoi piccoli atleti, sono pervenute le congratulazioni del questore di Siracusa Benedetto Sanna.